No, voglio dire solo due cose. Sono molto contento per i ragazzi perché si allenano sempre con grande attenzione, grande determinazione. E questa è una partita molto complicata perché inusuale alla prima partita di campionato, c'è sì solitamente l'emozione dell'esordio, soprattutto se la prima è in casa, ma inusuale alla prima di campionato una partita di questo tipo, che è uno strascico della serie dell'anno scorso, con tifoserie estremamente coinvolte, con molti giocatori che erano presenti, e chiaramente dalla parte di Biella e anche dalla parte di Torino, alle sfide della passata stagione. Quindi un insieme di emozioni, impressioni, desiderio di vittoria, veramente inusuale e forse anche eccessivo per la prima di campionato. Chiaramente ci tenevamo moltissimo a vincere, ma nello stesso tempo ero consapevole e speranzoso di fare una buona prima parte di gara, mentre temevo la seconda e temevo un calo fisico, che c'è stato nel terzo, nel terzo quarto, ma poi devo dire i ragazzi non so dove abbiano trovato le energie per reagire, riprendere l'inezia della partita e chiudere anche con grandissima autorità. Abbiamo mosso bene la palla, ad eccezione di qualche minuto in cui tenendo fermo il pallone abbiamo fatto fatica a trovare quelli che sono i nostri tiri, e poi si può fare canestro più o meno a seconda anche della partita. A parte quei pochi momenti, devo dire che la squadra ha mosso la palla molto bene, non preoccupandosi di andare a cercare Alan, piuttosto che BJ o piuttosto che Nick, che sono un po' i nostri tiratori, ma semplicemente muovendo e prendendo quello che la partita dava. E questa credo sia stata la chiave, poi il termine Asfaltati sinceramente in maniera gogliardica, sicuramente ha aggredito il pubblico, però con grande rispetto abbiamo cercato di giocare fino alla fine perché poi è giusto nel girone di andata dare il segnale ai giocatori che fino all'ultimo minuto va giocata con grande intensità perché poi le classifiche sono anche determinate dalle differenze canestri e dalla classifica avulsa. Io credo che fondamentalmente abbiamo vinto la partita, poi per quanto riguarda quelle che sono le scommesse, che è corretto perché abbiamo la Quintana in un ruolo molto delicato, è Eric in un ruolo nuovo ed è Vico con dei minuti molto più importanti, lo stesso BJ Raymond, un giocatore nuovo per la Lega, ecco queste sono tutte situazioni che hanno bisogno di lavoro, di sviluppo, il campionato è molto lungo, sicuramente abbiamo fatto un buon passo, siamo sulla giusta direzione per atteggiamento e attenzione, ecco per oggi sinceramente abbiamo vinto solo la partita e adesso i ragazzi festeggeranno questa sera ma poi risettiamo perché il campionato è estremamente lungo, impegnativo, come ho già detto di grande qualità quest'anno. Siamo calati nel terzo quarto, abbiamo dovuto anche nelle nostre chiamate, nei nostri giochi, utilizzare situazioni di posizione che solitamente utilizziamo di meno per cercare di risparmiare energie e di arrivare fino in fondo, poi ripeto, secondo me sono intervenuti in una partita così particolare, energie nervose che poi vanno a, come si dice, a raschiare il barile, a prendere delle cose che neanche hai dentro ma ti fanno fare dei salti, degli sprinti, dei canestri incredibili. Noi da quel punto di vista avevamo molto dentro perché, come abbiamo detto in settimana, gara 4 dell'anno scorso ci è rimasta lì perché l'avevamo giocata bene, volevamo portarli a gara 5, quindi sono emozioni che contano, è un gioco di emozioni ed è fondamentale. Le qualità dei giocatori dopo un mese e mezzo di lavoro le abbiamo abbastanza in testa, non ci aspettavamo che riuscissero a portare energia fino alla fine della partita, mentre nel secondo tempo ancora abbiamo fatto dei canestri importanti e abbiamo fatto delle cose belle muovendo la palla e muovendoci senza la palla, cioè ancora correndo e pressando a tutto campo. Questa è stata una buona risposta. Il ritardo di condizione comunque risottolineo siamo. Per quelle che sono le mie aspettative, i ragazzi sono adorabili, ho visto Bloise, Lagana, Murta e Hollis, tutti e quattro prima della partita, sono adorabili, un gruppo meraviglioso, Bielle speciale, quindi tutti tornano qua volentieri, una squadra che si è voluta bene per tutto l'anno e che continua a volersi bene. Continuiamo ad allenarci, continua ad allenarci su tutto, si allena sul tiro, si allena sul gioco in post basso, si allena nel gioco senza la palla e tenendo sempre presente la sua attitudine ai rimbalzi, sia offensivi che difensivi. Per noi è una scommessa, visto che nessuno ce l'ha mai fatto giocare con continuità. Io su queste cose sono sempre stato un po' sognatore, soprattutto nel ruolo dell'ala piccola. Secondo me quando hanno 20 anni hanno ancora fisicità, dinamicità, ci si deve provare, ci si deve provare, tanto si fa sempre in tempo a tornare indietro. Io credo che lui abbia le qualità per farlo, perché non è solamente un atleta, ma è anche un giocatore con un tocco eccellente. Arrivevo dalla partita del trofeo angelico, in cui non aveva sbagliato neanche un tiro, e oggi chiaramente l'esordio davanti al pubblico. Voleva far canestro e poi ha assistito un po', non trovava il canestro, si è un po' nervosito. Allora lì gli abbiamo detto stai tranquillo, continua a far giocare la squadra, adesso non pensare a far canestro che tanto arriveranno i tuoi tiri. ed è stato molto bravo, è stato decisivo e ha sempre avuto una bella faccia durante tutta la partita. Grazie a tutti.